Prosegue a Torino la protesta dei tassisti contro il decreto sulle liberalizzazioni, iniziata giovedì pomeriggio. In città e all'aeroporto di Caselle continuano a essere pochissimi i taxi in circolazione. Anche dopo l'assemblea di ieri sera, infatti, la maggioranza dei tassisti rimane sulla linea della protesta a oltranza contro il progetto di liberalizzazioni. Queste sono assemblee spontanee, nate dalla categoria, in attesa che il Governo ci dica qualcosa di certo, perché a differenza delle altre categorie con le quali ci sono state già delle aperture, con noi sembra che il Governo non sia intenzionato a scendere a compromesso, almeno a un dialogo sereno. Ieri sera è giunta notizia che c'è stata un'apertura da parte del Governo, noi ne siamo contenti, vogliamo solo andare a discutere e capire esattamente quali sono le intenzioni dei nostri politici a livello nazionale. Chiamano tutte liberalizzazioni, ma in realtà non è una liberalizzazione, è un semplice aumento del numero delle licenze. Quindi è come se, ad esempio, domani, visto che siamo su Torino, la Fiat decidesse di dire chiunque può venire a lavorare nella mia azienda e dicesse agli operai il tuo compenso lo devi dividere con gli altri. Io non credo che sarebbero tutti tranquilli e contenti di una cosa così. Noi abbiamo delle tariffe imposte, abbiamo delle regole certe che tutelano noi, ma tutelano soprattutto l'utente finale, l'utente consumatore. E noi vogliamo essere controllati, dobbiamo essere controllati perché siamo un servizio al pubblico, gestito da privati, ma siamo un servizio al pubblico. Quindi abbiamo, purtroppo abbiamo dei documenti che probabilmente solo noi tassisti riusciamo a leggere, a livello locale e europeo, che inequivocabilmente ci dicono che, ove vi sia stata una liberalizzazione del settore, le tariffe sono raddoppiate, se non triplicate e la qualità del servizio è scaduta in basso, noi questo non lo vogliamo e non lo permetteremo. Una nuova riunione è stata convocata alle 11 di questa mattina, accanto allo stadio della Juventus, alla periferia della città. La protesta dei tassisti torinesi, in tutto quasi 1600, è cominciata giovedì pomeriggio, quando si sono radunati per la prima volta sul piazzale dell'aeroporto di Caselle. Il governo ha deciso di convocare il 17 gennaio i rappresentanti di tutte le sigle sindacali, ma la preoccupazione e sfiducia permangono. Queste liberalizzazioni, che tra l'altro non riguardano solo noi come categoria, ma sta diventando un problema nazionale, a nostro parere distruggono semplicemente quello che è il tessuto sociale della piccola imprenditoria e piccoli artigiani, quali noi siamo, quali ad esempio gli edicolanti, in tutte le forme più bizzarre che ha proposto questo governo. Per quanto riguarda la nostra categoria, questa liberalizzazione che viene mascherata con delle formule di compensazione, portando semplicemente un indiscriminato numero di licenze sul mercato, distruggerebbe quella che è la nostra capacità di sostenibilità, sia nel lavoro, sia in casa e come tutti sanno, noi abbiamo fatto dei sacrifici immensi per poter accedere a questa professione, che tra l'altro, diversamente da come si crede, non è necessaria una licenza per lavorare in questo settore, nel senso di comprarla, la si può anche affittare. Quindi quando il governo dice che questa licenza è inaccessibile o cose del genere, non è vero, ci sono molti colleghi che l'affittano e con il tempo magari riescono a pian pianino mettersi da parte e comprarsi una propria. Quanto costa una licenza? Dipende dalle città, attualmente sulla piazza di Torino siamo attorno ai 110.000 euro, oltretutto diversamente da come crede l'opinione pubblica, questa licenza è regolamentata nella compravendita, dallo Stato italiano con una legge del 92, e lo Stato italiano percepisce attorno al 20% sul valore della compravendita di questa licenza. Quindi se decadrebbe il valore della licenza, dove noi stiamo facendo sacrifici immensi perché c'è chi le sta pagando, non riesco a capire anche il vantaggio dello Stato in questo senso. Se lei pensa alla città di Milano nel 2011, ha dato allo Stato 5 milioni di euro nella sola compravendita della licenza. Oltretutto noi siamo un servizio pubblico presente 24 ore su 24 tutto l'anno, che non costa nulla allo Stato, perché i costi di gestione sono assolutamente a carico nostro. Quindi è pesante come situazione, vista anche la crisi generale che già ci colpisce, e tra l'altro noi siamo anche dei lavoratori e delle persone, non viviamo in un mondo parallelo. Il cosiddetto decreto Salve Italia, che costerà alle famiglie italiane circa 1.500 euro all'anno, non è che a noi non costa, quindi mettendo tutto nel calderone si può percepire la nostra inquietudine in tal senso.